Scusa Chiara, volevo chiederti. No, devo fare le prove. Eleonora, senti? Sto parlando. Martina! Dopo sto messaggiando. Ma come ha già fatto per farmi ascoltare da qualcuno? Con Team Unlimited. Per te che sei Telecom Italia, chiamate, SMS e Internet senza limiti a soli 29 euro al mese. Allora Gennaro, cosa volevi? Eeeh... Oh! Mangia scordata. Ciao Gennaro! Ciao Gennaro!